Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video qua su Call of Duty Advanced Warfare siamo tornati con il quarto episodio della serie Road to Commander il quarto episodio che purtroppo ci ha messo un po' a portarvi ma avevo avuto un po' di problemi in questa settimana adesso dovrei riuscire a portare qualche episodio in più visto che sia nelle vacanze ma non vi prometto niente allora oggi siamo qua per fare una sfida, una sfida un po' così ecco ho deciso di farla proprio così e sarà appunto giocare su PC con il controller però con la visuale invertita quindi già sono svantaggiato perché gioco su PC e quindi uno è già svantaggiato perché mouse e tastiera non li batte nessuno e sensore di invertita si poi qua non lo so io non so sinceramente com'è aspetta un po' schema levette, predefinite, questo qua è molto tattico e già sono un po' svantaggiato quindi è un po' un casino ma va bene così allora io come controller utilizzerò quello della mia 360 che utilizzo anche su FIFA tra l'altro e andiamo a farci una bella partita in standard dominio sperando di entrare in una partita che non sia già iniziata invece si è già iniziata ma va bene quindi visuale invertita ragazzi ci sarà un po' da bestemmiare purtroppo però volevo fare questa sfida qua un po' diversa un po' un po' più diciamo accattivante accattivante se vogliamo così dire e intanto gioco sempre con mouse e tastiera ogni tanto se la faccio schifo con mouse e tastiera magari ora faccio punteggio dalla madonna con la visuale invertita quindi aspettate un attimo che abbasso il volume che se no qua io muoio ok prendiamoci il nostro MP11 oddio oddio tutto il contrario ecco già sotto di una vabbè ma qua c'è l'andato vicino comunque oddio eh una kill fatta dai ragazzi una kill abbiamo fatto ma no come eri quelli che controllo ma che cazzo ci ha spinto così a caso vedete che praticamente è ormai già finita questa però vabbè mamma mia ragazzi comunque che brutta sensazione giocare oddio oddio che casino mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia ma perché vado sempre giù con questa cazzo di mira vabbè intervallo stiamo facendo quanto ma non lo posso vederla qua due o tre due o tre due o tre ragazzi ci può stare comunque veramente è abbastanza difficoltosa come cosa ma ma vabbè volevo portarvi un po' così tanto da fare un po' qualcosa di diverso ecco appunto e e quindi ho detto ma si dai vi porto la visione invertita che è abbastanza un casino dovrei essere stato il primo non sono stato manco il primo what però ragazzi giocare a controllo col controller tanta roba arriva un approvvigionamento nemico andiamo perdendo cioè non è male come cosa giocare con il controller oddio vai giù guarda giù guarda su che cazzo è mannaggia tanto non sono manco più abituato a giocare con il controller no ma che cazzo qua un casino fotonico mamma mia mamma mia che casino mamma mia guarda giù no guarda su ora no ma perché ma perché sono così veloci gli altri ma cosa stia del cazzo no senza no vabbè ora non scherziamo io in modo stasera l'adoro quindi 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 oddio cazzo no così se si abbassa oh 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 50 punti a caso guarda su ora cioè guarda guarda cliccano giù intesa da chi oh ma non c'era ma non c'era oh oddio oh che casino ok dai ua b nemico online a sotto controllo ua b nemico in volo guittiamo b bravo sotto controllo prendiamo arma prendiamo b ok no ragazzi veramente impossibile co e' imposti o' 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 ci nasce giocando qui bocca trolla o' ci nasce giocando giocando con la visuale invertita è impossibile che veramente cioè è troppo è troppo difficile finita finita qua la prima partita adesso andiamo subito in un'altra visto che è durata un po' pochino cioè poco per voi magari è durata poco per me è invece è durata troppo tempo perché minchia qua due su uno poverino 4 a 9 grandissima grandissimo punteggio ragazzi grandissimo punteggio punteggio del cazzo però vabbè siamo stati promossi a livello 35 35 specialità sciacallo nuovi oggetti vediamo subito cosa abbiamo dentro inizi con caricatore extra e ricarichi le munizioni ma va grandissimo questa cosa mi chiede una wildcard specialità 3 vabbè e qua invece apriamo vediamo cosa cresce due pie 10 minuti elite elite arma culatta 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 si dice così culatta culatta sembra ignorante qua direi biolab che è un po' più bello no biolab fa cagare tra l'altro mica con la visuale in verde ma chi cazzo è sto qua non sono io eccolo qua ma che cazzo prestigio niente clan classifiche stagione 0 che cazzo ah è vero non ho fatto ancora la cosa siamo pronti a entrare ma va posso portarlo con RS altro po' più porto FIFA FIFA 15 porto la carriera con il Brighton sapete che la gran tifoso del Brighton io vi voglio portare la carriera del Brighton e quindi vi porto la carriera del Brighton ovviamente adesso sono in serie A ma un po' di soldi 100 milioni pensato proprio io ho comprato Starling no Sterling a parametro 0 non chiedetemi come cazzo è possibile non è un bug del gioco l'ho preso a 0 ho preso Sterling con Starling a 0 poi me l'ha richiesto il Manchester City a 60 milioni no 80 milioni di sterline gliel'ho venduto ho preso Starling ho preso Starling e basta quindi andiamo di qua andiamo di questa qua di bug cambiamo un po' arma oddio si una kill fatta no 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 non si è già male muoviti tu per che caso è mamma mia doppia no non ci credo non ci credo ragazzi 3 2 attenzione doppia kill la visuale invertita doppia kill la best kill visuale invertita ever mamma mia vai 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 no non va tra l'altro le levette funzionano normali cioè soltanto la levetta su e giù che sono invertite quelle laterali no io sono fatto anche quelle laterali invertite oltre ad essere stato un casino dove porta troia sarebbe stato anche magari un po' più divertente esagerare l'opera l'africa 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 c'è l'africa l'africa secondo me quando dopo rigioco normale non ci riesco più quando rigioco con le vette normale non sono più capace eh vaffanculo io ero ancora qua a capire come cazzo si girava la levetta con lui mi spara dritto secondo me riesco a beccare eeeh così a caso ma vabbè vedo dove sta lag cazzo me ne frega di città dai su eccoci la oh 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 ma perchè non li prendo più va si è finito l'effetto del l'effetto del controller overpower dai che sei la che cazzo sta a fare si capisce un cazzo ma cos'è oddio quant'ora qua ce ne sarà qualcuno ecco porca troia st'interfaccia quanto dai dai bravo nooo lo stavo per fare di nuovo doppia mi serviva porca troia quello la dove cazzo era si no la ricarica oh mamma mia ci capisco più un cazzo scappa 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 oddio ok eeeh qua quella lì mi ha mangiato Dai che sei là No Ma che cazzo Corri E' finito il primo round Intervallo Va bene ragazzi fantastico Quanto stiamo facendo Quanto stiamo facendo 8.13 vabbè almeno 8 kg l'abbiamo fatta Guarda questo Boom Secco nella schiena Crociao gli ha fatto Un colpo secco E ciao e via Dove andare su C subito Oh corri Ma perché ci metto così tanto a partire Ma che cazzo è Niente qua Quanto lo so che arrivi da qua E vaffanculo dai Dio bon Qua scoppia il mondo Dove cazzo mi ha preso sto qua Ma guarda te Ma guarda te Io non ci vedo un cazzo con questa visuale marcia Ma cos'è Ma cos'è Minchia Porca troia Non so come cazzo ho fatto ma l'ho ucciso Noi cazzo di interfaccia Ovviamente ce l'avevo dietro Ovviamente Quello lì mi stava seguendo Mori cazzo Mori cazzo Mori Che cazzo è sta a fare Sì Vaffanculo Prima volta che lo prendo E la madonna Minchia che cazzo è Titanfall Ma che cazzo è Oh ma non muore Ma Dio bono Ma guarda Ma gli avrò fatto mille Mille Gli avrò sperato mille volte Quel bastardo lì davanti Come cazzo Fa non morire Madonna Madonna No cazzo Regà è impossibile Mamma mia Mamma mia Cioè ma anche se ti concentri È proprio impossibile Cioè è fisicamente impossibile Di giocare con la visuale Al contrario Ma il cazzo Sparano tutti No merda Porca troia Oddio Che cazzo Guarda Sì Vabbè Affanculo Ma che l'ho fatta Cazzo se me ne frega Che cazzo è sta a fare Qua Oh Guarda la torretta Ma raga Ma dove cazzo Era sta qua C'è ma Vabbè Vabbè Affanculo Non dico niente Io perché Per cazzo Guarda Vai che vieni fuori Sì Sì Manca il tempo Di Cazzo Oh vaffanculo Mi rifiuto Di giocare con la visuale Di merda Io non voglio sapere Come si abbatte Fì con sta cazzo Di visuale Sì Madonna Come l'ho preso Ma qua proprio Mi sono impegnato A livelli estremi Sì Ciao Però lì Mi ha dorato il culo Oh Un'altra kill Ma scoppia il mondo Scoppia la terra Scoppia la mappa Scoppia tutto Scoppia Scoppia tutto Cazzo Ma che cazzo Non è frega di piso Abbiamo perso B C Sotto controllo Nemico sotto EMP Equipaggiamento Enrico Sotto controllo Qua arrivano granate Del mondo Ma davvero Eh sì Ciao Ciao proprio Finita È finita raga È finita Basta Non ce la faccio più Non ce la faccio Ho portato il mio vecchio Mouse e tastiera Vi prego Fatemi giocare Con il mouse e la tastiera Perché Col controller È devastante Proprio Cioè È devastante È devastante Con la visura invertita Magari solo il controller No Eh Però la faccio Faccio un video Solo controller Mi l'ho svantaggiato Su pc Ma vabbè Vediamo qua Quanto abbiamo fatto Abbiamo sbloccato La mimetica Casaccio Vabbè Non vedgete Apriamo un po' Sto pochetto qua Di fornimento Un po' Elite Enforza Elite Di nuovo E niente ragazzi Per questo video qua È tutto Io spero che vi sia piaciuta Come al solito Vi invito a lasciare un mi piace Un commento L'iscrizione Al canale Quando vi faccio vedere Che c'è sempre la visura Invertita Vedete Se bisogna invertita Sì Ora mettiamo o no E Ci vediamo in un prossimo video Bella raga Ciao 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 Ciao